Una vera e propria spedizione punitiva, l'obiettivo un operaio di 30 anni con piccoli precedenti di polizia alle spalle. Poca roba e vecchia di qualche anno per poter collegare l'agguato di questa mattina in via Ingham ad Alcamo al mondo della criminalità organizzata. Su questo episodio stanno lavorando a 360 gradi i carabinieri della compagnia cittadina, un caso difficile da poter decifrare ma su cui ci sarebbero già degli indizi. L'episodio si è verificato questa mattina intorno alle 9 all'altezza del bar Crystal, a rimanere ferito un alcamese di 30 anni. Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri, confermata dalle immagini di videosorveglianza della zona, un uomo alla guida di un ciclomotore con il volto coperto da un casco integrale si sarebbe avvicinato all'operaio che stava percorrendo a piedi l'arteria. Ed è proprio questo il punto in cui è avvenuta la sparatoria. Due colpi di arma da fuoco che sono stati esplosi da un'arma di piccolo calibro. Un primo non è andato a segno, un secondo invece è riuscito ad andare proprio a segno, colpendo la vittima predestinata. Il trentenne è rimasto ferito alla gamba sinistra, a pochi centimetri dal ginocchio. Un amico lo ha portato all'ospedale San Vito e Santo Spirito di Alcamo dove i medici hanno estratto l'ogiva dalla gamba dell'operaio. Per lui soltanto una ferita e 20 giorni di prognosi fortunatamente. Ascoltato dai carabinieri, quanto riferito dall'uomo è al momento top secret, così come la sua identità. Gli inquirenti sono al lavoro per cercare di risalire all'autore di questo gesto. Sono state acquisite le immagini della videosorveglianza installate all'altezza del distributore di carburante che si trova proprio davanti al bar. Ancora sono al vaglio dei carabinieri e potrebbero anche far risalire all'autore dell'agguato. Da un'analisi del proiettile estratto dalla gamba del malcapitato si è riusciti a risalire anche all'arma. Si tratta di una canna corta di piccolo calibro. I militari dell'arma stanno scavando in particolare nella vita privata della vittima per cercare di avere più elementi utili possibili nel tentativo di dare una chiave di lettura alla sparatoria. Il trentenne appare essere lontano da ambienti criminali di una certa caratura. Ha dei piccoli precedenti avvenuti a cavallo tra il 2010 e il 2012. Per il resto più nulla, una vita apparentemente tranquilla quella condotta dall'operaio. Non si esclude che chi lo ha colpito in realtà non volesse ucciderlo ma solo ferirlo. Quindi un possibile avvertimento per un ipotetico regolamento dei conti. Tutto da capire però il contesto in cui ha maturato.